Sono ore cruciali per il destino del Messina. Domani scade il termine ultimo per l'iscrizione ed il braccio di ferro tra il presidente Sciotto e l'imprenditore Mannino continua. Sciotto resta fermo sui suoi passi. La squadra non sarà iscritta al prossimo torneo di Serie C. Con buona pace dei tifosi peloritani, in trepidante attesa di sapere quale sia il futuro giallorosso dopo i play-out vinti con la Gelbison, tra oggi e domani ci saranno fondamentali novità nel bene o nel male. Il Messina a questo punto sembra l'unica squadra veramente a rischio nel girone meridionale con l'allarme mai rientrato da qualche giorno in casa Turris. Il presidente Colantonio qualche tempo fa ha annunciato la collaborazione con Russo, presidente dell'Almafano. Sono lieto di annunciare una novità importante per quanto riguarda la nostra Turris. È iniziata una proficua collaborazione con l'imprenditore Mario Alessandro Russo che con la sua azienda Gesan darà un contributo nella prossima stagione sotto forma di sponsor. Dunque la Turris ci sarà iscrizione completata e nuovo percorso che comincerà dal 21 di giugno con il nuovo organigramma che comunque dovrebbe comprendere l'amministratore unico Antonio Piedepalumbo e il direttore sportivo Rosario Primicile. Da valutare il futuro di mister Fontana che ha portato i Corralini alla salvezza e che potrebbe dunque essere confermato.